Sì, più che anche i 5 Stelle e soprattutto i 5 Stelle, perché noi siamo stati i primi a contestare questo tipo di scelta che va in una direzione di andare a consumare un suolo che penso le immagini possono raccontare meglio di noi e quindi un territorio che va tutelato quando manca ed è mancata soprattutto nel tempo una programmazione ma soprattutto quelle scelte politiche di gestione dei rifiuti per portare sempre meno rifiuti perché non possiamo far diventare le Marche, Ricceci o qualsiasi altra zona una discarica per condotersi per dare profitto ai privati. Bisogna avere una sana gestione e gestire bene il territorio. Per quanto riguarda invece il lavoro che abbiamo portato in Consiglio regionale, come sapete sono tanti gli atti che abbiamo presentato da interrogazioni alle mozioni, l'ultima che è passata all'unanimità chiede l'interpretazione autentica di un passaggio importante e sulla nostra scia si è inserito poi, come sapete, il Presidente della provincia Paolini che ha avanzato la stessa richiesta che non è stata purtroppo evasa dalla Regione. Vorrei anche ricordare che precedentemente, avevo due mesi prima che Aurora presentasse il progetto, avevamo presentato una mozione che chiedeva di aumentare le fasce di rispetto dei centri abitati che ad oggi sono a 2.000 metri. Mozione che purtroppo è stata bocciata dal centro-destra, tant'è che l'abbiamo rivisitata e ripresentata nuovamente. Adesso è depositata in Consiglio regionale e speriamo di riuscire a discuterla presto. Terminando, naturalmente noi siamo al fianco di tanti cittadini e comitati che sono contrari, che sia realizzata una discarica qui, che sarebbe veramente una cosa che chiede e urla vendetta. È un posto meraviglioso della nostra provincia e va difeso con le unghie e con i denti e noi faremo tutto ciò che possiamo fare per evitarlo.